Volevo invitare tutti i commercianti, i bottegai, gli artigiani a iscriversi al CIV perché è un'associazione importante, è l'unica, diciamo l'ultima ancora per fare associazionismo tra di noi, per darci una mano, per aiutarci, però bisogna farlo. Io invito tutti quelli che non si sono ancora iscritti a iscriversi velocemente perché abbiamo bisogno di voi.